Daniele Raggi, 46 anni architetto, vive a Marina di Carrara con compagna e figlia. Ha deciso di candidarsi col Movimento 5 Stelle per continuare un percorso iniziato circa sei anni fa col gruppo di Carrara di cui condivide pienamente i valori e le numerose azioni proposte nel corso degli anni. Sogna con De Pasquale Sindaco un'amministrazione che finalmente sia in grado di dare delle risposte ai tanti cittadini che per la maggior parte in silenzio nel corso degli anni hanno completamente perso la fiducia nella politica.